ciao a tutti da oggi potete trovare in edicola questo bellissimo volume di tex formato quello alla francese dinamite maurizio boselli maurizio dotti vi faccio vedere qualche qualche tavola per anche farvi vedere soprattutto i colori guardate che spettacolo ecco qui guardate questo come molti criticoni saprete che è una ristampa va bene io sono contento che l'hanno fatto perché non l'avevo e mi godrò la lettura soprattutto mi godrò queste bellissime tavole a colori guardate bellissime queste scene di questi cavalli mi godrò la lettura soprattutto in questo formato con questi colori alla faccia di chi ci ha fatto tanta tanta critica su questa decisione di fare questo numero che poi c'erano dei dei motivi anche abbastanza seri importanti non è che la bonelli si è divertita a prendere questo racconto che era già stato pubblicato e riportarlo qui e mi raccomando a quelli che hanno criticato tanto non comperatelo è non comperatelo perché voi siete collezionisti e dovete avere la collezioncina tutta senza doppioni mi raccomando e poi dopo dite che siete ma no non siamo collezionisti siamo degli appassionati sosteniamo le edicole poi dite di non acquistarlo appunto questo volume esce nelle edicole e io sono felicissimo che l'hanno fatto soprattutto perché bisogna sostenere le edicole e si acquista chi ama tex non può non acquistare questo volume di dinamite seppur che sia una una ristampa vi ricordo il prezzo 9 euro e 90 quindi correte in edicola se siete appassionati ma anche se non lo siete proprio cioè questo qui è una bellissima storia che era già uscita va bene però in questa in questo formato a colori 9 euro e 90 è un prezzo davvero cioè non è niente ecco quindi che dire mi raccomando chi ha criticato tanto non comperatelo mi raccomando perché se no poi dopo vi rovina la vostra collezioncina e quindi poi dopo non avrete da lamentarvi quindi solo per i veramente appassionati del genere ciao